Lima Natalizio, diciamo, una partita equilibrata, 1-0-0 sostanzialmente giusto direi. Sì, anche se noi abbiamo avuto veramente due o tre occasioni molto nitide, molto belle, le abbiamo finalizzate magari male, però la squadra direi che ha fatto una buona gara contro un Atalanta che sapevamo la sua forza. Mutti, 1-0-0 sostanzialmente giusto, anche se l'Atalanta soprattutto nella ripresa è stata abbastanza intraprendente. Sì, abbiamo avuto un inizio di ripresa con delle ottime opportunità e è stato anche bravo il loro portiere così a negarci il gol, però è stata una buona partita, una buona partita, è giocata anche su toni atletici, agonistici intensi, penso un risultato ecco che ci soddisfa, ecco peccato che altre squadre hanno vinto, però insomma vista la partita penso che il risultato dobbiamo prenderlo così.